Guarda, onestamente non ho più voglia di continuare a fare video tutorial su Git, quindi considera quella seria sospesa a tempo indeterminato. Se trovi che ultimamente carico video troppo di rado, o la qualità dei contenuti di questo video è inferiore rispetto a quello che faccio di solito, è perché è un periodo che sono carico di lavoro, e quando ho del tempo libero sono troppo stanco per mettermi a preparare video. Cioè nonostante, ho comunque voglia di fare un video che parla di un tool molto utile se a che fare con Git, cioè l'EasyGit. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Nel primo video della serie di tutorial su Git, avevamo installato i tool TIG e RabbitVCS. Bene, l'EasyGit è un tool molto più potente e versatile di entrambi, che ho scoperto da poco. Se l'avessi scoperto prima, avrei iniziato direttamente la serie di tutorial su Git usando l'EasyGit al posto di TIG e RabbitVCS. Ma bando alle ciance, iniziamo subito installando l'EasyGit. Ecco, un grosso svantaggio di l'EasyGit è che non lo trovi nei repository ufficiali di Ubuntu o di Fedora. Ovviamente lo trovi su Arch, perché lì c'è veramente tutto. Quindi, ci tocca andare a scaricare l'eseguibile direttamente da GitHub. Al momento della registrazione di questo video, l'ultima versione disponibile è la 0.35. Giusto per curiosità, ti dico che l'EasyGit è scritto nel linguaggio di programmazione Go. E una delle caratteristiche di Go è quella di linkare staticamente tutte le dipendenze di un programma. Quindi l'EasyGit è un singolo file eseguibile che gira tranquillamente su qualunque distribuzione Linux. Quindi, una volta estratto l'archivio in una directory del nostro path, io ho scelto .local.searchbin che è abbastanza standard per l'eseguibile utente, siamo subito pronti a usare l'EasyGit. Spostiamoci nella directory dove abbiamo un repository Git ed avviamo l'EasyGit. Già la schermata di benvenuto al punto 1 ti manda ad un video su YouTube che ti mostra alcune delle funzionalità di l'EasyGit e ti consiglio vivamente di guardare quel video. Ma noi qui vedremo una funzionalità non presente in quel video che io personalmente ho trovato molto utile. Vediamo prima di tutto come è divisa la schermata. A sinistra vediamo 5 pannelli. Status, che indica lo stato del nostro repository. Per esempio, indica se ci troviamo nel mezzo di un merge oppure di un rebase ma l'operazione non è completata a causa di conflitti. Files, che indica lo stato dei file attuali. Per esempio, se ci sono dei file non tracciati oppure se ci sono dei file modificati. E ti permette di aggiungere o togliere file dalla stagionaria. Se noti, in realtà, questo pannello è diviso in due tab. Files e Submodules. Il tab Submodules ovviamente mostra gli eventuali submodules di questi repository. Funzionalità che personalmente non utilizzo perché è troppo incasinata. Il prossimo pannello è Local Branches e ti permette di passare velocemente tra un branch e un altro. Funzionalità comoda se hai pochi branch. Ma se ne hai molti, esiste una soluzione migliore che usa FZF. E questo lo vedremo in un prossimo video. Le altre tab sono Remotes, che elenca i branch remoti, e Tags, che elenca i tag. Poi abbiamo Commits, che ci mostra i commit relativi a questo branch. E da qui possiamo fare tante belle cose che vedremo più in là. L'altro tab è Reflog, che mostra ogni singola azione compiuta con Git in questo repository. Infine abbiamo Stash, che ci mostra, beh, lo Stash, cioè alcune modifiche salvate temporaneamente ma non ancora pronte per un commit. A destra, invece, troviamo il pannello più grosso, che ci mostra i dettagli di ciò che abbiamo selezionato a sinistra. Per esempio, se a sinistra abbiamo selezionato un file, a destra vediamo le modifiche fatte a questo file rispetto al commit precedente. Oppure, se a sinistra abbiamo un commit, a destra vediamo tutte le modifiche relative a quel commit. Il pannello più piccolo, in basso a destra, invece ci mostra l'esito delle varie operazioni. O se hai impostato del hook, vedi anche l'output del hook. Ok, ora che abbiamo un'idea di cosa ci mostra l'esigit, vediamo come utilizzarlo. Il primo e unico tasto che ti chiedo di memorizzare immediatamente è X. X apre una schermata di help che ci mostra tutte le operazioni possibili e che tasto premere per ognuna di queste operazioni. Altra cosa importante è che la schermata di help è context sensitive, cioè ti mostra le operazioni possibili rispetto a dove ti trovi in questo momento col cursore. Quindi, se stai selezionando un file, avrai delle operazioni differenti rispetto a quando selezioni un commit, per esempio. Trovo utilissimo il fatto che puoi mettere nella staging area solo delle singole linee all'interno di un file e non l'intero hank, o peggio ancora, l'intero file. Ma quella è una funzionalità che viene mostrata molto bene nel video 15 lazy git features in under 15 minutes. Quindi ti rimando a quel video per vedere come funziona. Come pure il cherry picking o lo squash dei commit. Tutte cose molto utili ma già mostrate molto bene in quel video. Una cosa che quel video non mostra però è che l'eseguita è completamente personalizzabile e ti permette di creare anche dei comandi custom. Per esempio, la cosa bella di qualsiasi sistema di controllo di versione è quella che posso vedere che faccia un file in qualsiasi momento passato. Ma allora, perché non trovo nessun tool che mi faccia confrontare in maniera semplice un file allo stato attuale con una delle sue versioni precedenti a mia scelta? Ecco quindi che un comando custom può venire in mio soccorso. Basta semplicemente posizionarsi sul pannello status, premere la E per editare il file di configurazione e scrivere il nostro comando custom. Come scrivere comandi custom esula dallo scopo di questo video, ma è ben documentato ed in più c'è anche una pagina wiki su GitHub con alcuni comandi custom che ti linko in descrizione. A questo punto salviamo usciamo e riavviamo l'eseguit per far sì che l'eseguit rilegga la configurazione. A questo punto se ci spostiamo su un commit, premiamo Enter per visualizzare i file modificati in quel commit e poi premiamo F su di un file. Ecco che abbiamo il nostro bel div tool che confronta quel file alla revisione che abbiamo selezionato con la nostra copia locale del file. Molto utile, anzi, dovrebbe essere una funzionalità standard di qualunque cliente di ita a mio avviso. Occhio che questo bel comando non funziona se tra una revisione e la nostra copia locale il file è stato rinominato oppure spostato in un'altra directory. Questo è un bug noto che ho già segnalato e spero verrà risolto in una prossima versione. Bene, ora non mi resta che mandarti al video 15 Lazy Git Features in Under 15 Minutes per scoprire le altre funzionalità di questo programma. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Ciao! grazie a tutti